Il bello è che le librerie sono aperte. È stata una battaglia di cultura e di amore per il libro che è stata vinta già durante il lockdown. Le librerie aperte hanno significato l'impegno dei librai e dei lettori a mantenere viva queste attività. Infatti l'anno è andato, l'esercizio si è chiuso sui stessi livelli dell'anno precedente, il che considerando anche i mesi di chiusura è una cosa veramente positiva. L'impegno è quello di continuare, è quello di dare quanti più servizi possibili anche all'esterno della libreria, quindi le presentazioni online, quindi la possibilità della consegna a domicilio, quindi la possibilità di essere vicini e di dare consigli anche essendo su web. A questo proposito uno dei progetti delle cose belle, il bello di questi giorni è la nascita di questa newsletter dedicata ai nostri soci e a tutti i lettori. Si chiama Librellula, Librellula di io ci sto ed è proprio frutto della passione e dell'impegno dei soci che hanno creato una redazione con interviste, proposte, consigli, recensioni, insomma anche questo è un modo di essere vicino ai nostri lettori, alla città, ai nostri soci e penso che sia un'espressione veramente, quando c'è passione e volontà di resistere, è veramente qualcosa di bello. grazie. Grazie a tutti.